Ero di Guardia, dovevo smontare alle 11 e mezza, alle 11 e mezza di sera da 25, siamo stati spironati. E forse l'ultimo membro dell'equipaggio dell'Andrea Doria, lo sfortunato transatlantico della Compagnia Italia di Navigazione, affondato la mattina del 26 luglio 1956, dopo la collisione avvenuta il giorno prima con un'altra nave passeggeri, la svedese Stockholm. Classe 1929, originario di Pisino, Vittorio Geromella aveva il ruolo di fuochista e quindi non ha potuto far nulla, trovandosi all'interno della nave per segnalare il pericolo imminente e contribuire, per quanto possibile, ad evitare l'incidente che è costato la vita a 46 passeggeri della Doria e a 5 della Stockholm. Mi ero in fondo finché è cominciato a lampire di più acqua, mi è venuto in caldaia e sono rimasto con me, di bassa forza. Era un elettricista, un ingrassatore, erano i macchinisti, era il direttore, ma allora erano le macchine che avevamo soltanto, mi ero in caldaia solo. La Stockholm, che dal 1 marzo 2016 è in servizio come nave da crociera ed è stata ribattezzata con il nome di Astoria, è arrivata stamana alle 6.30 a Trieste, dove è rimasta ormeggiata la stazione marittima per poco più di 4 ore. Il signor Geromella non ha ovviamente resistito la tentazione di scendere sulle rive per rivedere da vicino la nave che ha interrotto bruscamente la vita dell'Andrea Doria. E come egli ci ha raccontato, l'agonia della nave, corricata su un fianco, come abbiamo visto accadere con la costa Concordia, è durata 11 ore, ma alla fine, dopo aver capito che la nave era perduta, il comandante ha deciso di ordinare l'evacuazione. Avevo tre caldaie accese e quando in ultima mente gli è venuto l'ufficiale e gli dice guarda non so niente da fare perché ne viene acqua adesso dal fianco in caldaia, dopo caldaia possono saltare. E dico qua non so niente, dopo gli è andato a dire al direttore, il direttore si vede che ha telefonato al comandante e dopo il comandante che ha fatto le parole queste, i signori passeggeri del equipaggio a salvataggio nave e così siamo andati. Il ricordo dei momenti antecedenti alla collisione è ancora nitido nella memoria del signor Geromella sebbene come abbiamo detto il suo ruolo operativo si svolgesse nel ventre della nave in sala macchina. Eravamo in ruota, noi giusto per New York, e la veniva da New York e era ruota sbagliata e si hanno messo in comunicazione e come ha girato verso noi è venuta giusto, sul punto giusto per buttarne sotto. Dicono che era nebbia, mi non lo so perché sono in macchina, ripeto dire, ma purtroppo era fischio continuo perché quando c'è nebbia la nave fischia continuo. Infine, l'ex fuochista dell'Andrea Doria, che dopo l'affondamento è stato riempiegato su altre navi della compagnia ricorda un particolare che ha dell'incredibile. Quando si è finito tutto, una ragazza, almeno non l'ho visto, della nostra nave che ha preso sulla prora a ruota era viva senza un graffio.